Siamo su questo muretto perché proprio su questo muretto c'erano queste chiacchierate, magari anche la sera, dopo le lunghe giornate sinodali, di fronte c'è la casa unionista che era comunque il luogo dove ci trovavamo come gruppo giovanile di Torre Pellice e un po' più in là, 500 metri più in là c'era il bistrò, c'è ancora adesso il bistrò che era un posto dove dopo le discussioni, le chiacchierate, ci trovavamo magari a continuare le chiacchierate, discutere, magari con una birretta e questi sono i tre luoghi in cui è nata Radio Beckwith. Durante queste chiacchierate con i nostri coetanei o comunque con i fratelli anche di altre chiese italiane venne fuori l'idea della radio perché? Perché c'erano la delegazione metodista di Trieste, il pastore Claudio Martelli in particolare che era un pastore metodista e che aveva appena realizzato da pochi anni una radio evangelica a Trieste e lui ci lanciò una specie di sfida dicendo ma se noi facciamo una radio evangelica a Trieste dove siamo quattro gatti fondamentalmente com'è che non la fate voi qua alle valli dove siete comunque una presenza importante. Era comunque il periodo delle tante radio libere, non c'erano ancora di fatto norme, la legge Mammi è successiva a quel periodo per cui diventava un po' il fatto che due o tre amici si trovavano insieme e facevano una radio. Noi abbiamo voluto fare una radio con dei contenuti, fosse una radio in qualche modo legata alla presenza evangelica in questo territorio si diceva a volte in una mano la Bibbia e nell'altro al microfono, nel senso che si andava in giro a leggere il territorio pur con poche forze e poche risorse, leggere il territorio avendo alle spalle un pensiero un pensiero evangelico. Ci sono i due nomi che sono fondamentali nella vicenda Bequit e Lobue. Bequit il generale che lancia la sfida ai Valdesi nell'Ottocento dicendo sarete missionari non sarete a nulla e che in qualche modo caldeggia, aiuta, sostiene la nascita delle scuole perché il problema dell'istruzione era un problema serio e l'affrontare e come dire formare dal punto di vista scolastico la popolazione delle valli era la sfida di quel momento. Ovviamente nel 1983-84 non si trattava più di parlare di scuola ma l'informazione era un problema, stava nascendo l'impero Fininvest, si andava incontro a un duopolio sostanzialmente televisivo e quindi sicuramente il problema di poter parlare liberamente, annunciare liberamente l'Evangelio ma parlare in generale dei problemi di una società era importante, era una delle nostre idee e Bequit è venuto fuori come nome. A margine ma non a margine c'è anche il discorso di Lobue, professore antipascista del Collegio Valdese, per cui mantenendo sempre l'ottica di un ragionamento sulla libertà Francesco Lobue è il nome che ci è venuto in mente per intitolare l'associazione che è proprietaria di Radio Bequit tuttora a questa personalità. Dopo un po' cominciamo a coinvolgere delle altre persone soprattutto da un lato dei giovani tecnici che avevano la passione per l'elettronica per questo tema qua, in particolare Walter Tomasini e Naivo Razzimba che erano persone che frequentavano la chiesa, membri della chiesa di Torre Pellice e che sapevamo avere delle capacità. Mi ricordo bene che con Naivo noi ci abbiamo messo tutti del nostro perché non è che fossimo stati finanziati, no. All'inizio mi ricordo che ho preso dei kit di nuova elettronica, adesso non esiste più la rivista ma su internet c'è ancora qualcosa. Uscivamo poi con 10 watt risigati con un'antenna segata da un'antenna dei CB, dei 27, facendo i calcoli portata per andare intorno ai 90 sulle frequenze dell'FM. Questa cosa qua del trasmettitore era una scappatoria che non costava tanto, quindi facendo questo kit e una cosa all'altra, è venuto fuori e ha funzionato. Poi c'era tutto il discorso della bassa frequenza, mixer, registratore, perché poi quando il radio ha cominciato a funzionare le testine si consumavano e c'era sempre qualcosa sul registratore, ovviamente perché poi quando cominciavamo con il discorso di fare un po' di ore di trasmissione le apparecchiature si usavano anche, tenendo acceso tutto. Teniamo conto che le apparecchiature le abbiamo ottenute dal radio Trieste che le aveva dismesse, quindi non era materiale nuovo, era tutt'altro, era materiale che per un livello più professionale, quale era allora, era già in qualche modo vecchiotto e gesuetto. Uno dei problemi iniziali e non solo iniziali che è durato, che ci fa compagnia da sempre, è stato quello economico. Lo sponso indiretto era colui il quale, cioè io portai i miei dischi che erano proprio quelli dei cantautori in radio, altri portavano i loro dischi di altri generi, ma poi c'era da seguire come dire l'aggiornamento di quello che succedeva, per cui magari non prendevamo un disco nuovo, ma nel negozio di Attilio possibile si registravano su cassette i dischi che uscivano mano a mano durante l'anno per poterne avere una certa disponibilità, perché comunque anche quello serviva e quindi oltre al materiale base, cioè le cassette vergine da registrare, quelle che si giravano con la Biro per tornare indietro, bisognava farle e quindi le faceva lui o qualcun altro magari occupava il negozio e registrava delle basi di l'inschi, insomma. Io ormai avevo già dieci anni di più, però avevo il negozio, quindi potevo fornire la musica e quant'altro. Poi è successo che Walter ha parlato appunto di questioni tecniche, ma quando eravamo prima alla casa unionista per gli esperimenti con un'antenna dove si arrivava a malapena all'ospedale e poi quando il concistoro ha avuto bisogno dello spazio si è liberato a una stanza qui nel centro culturale che era vuota e quindi ci siamo trasferiti lì montando trasmettitore antenne, come fosse già detto lui, sulla torretta. E di lì si arrivava poi fino agli appiotti sui 91,2 perché avevamo fatto una comunicazione alla Questura. C'è noi dal giorno tale trasmettiamo sui 91,200 come frequenza Radio Bequit Evangelica. Dopodiché ci eravamo detti, ma non si potrebbe andare a Roccabera, c'è la comunità montana che ha lì il caliccio e quindi ci siamo avvicendati, abbiamo fatto tutte le domande, cose eccetera e niente, la comunità montana ci ha detto picche. Per cui ci è venuta l'idea di fare un nostro traliccio a Roccabera. Ricordo ancora la prima notte che siamo usciti con Diane e con il mitico Attilio Sibille a cercare di capire dove arrivasse il segnale di quel trasmettitore che era se non sbaglio i 10 watt e per evitare di essere confusi con altre radio avevamo messo un disco di musica occitana di Ludelfin ben sapendo che difficilmente altre radio avrebbero trasmesso quel tipo di musica. Quindi girando con la macchina all'autoradio scoprimo in realtà che la musica della radio si sentiva fino all'ospedale valdese e al confine con Lusana San Giovanni per capirci, poi con qualche macchia in positivo e in negativo. Però fu il primo tentativo anche per poi individuare la frequenza su cui trasmettere per capire se c'era una frequenza libera su cui cominciare la nostra attività che poi appunto cominciò a novembre. Eravamo noi due, sì, perché eravamo io a Tilly, la Diana era la sua, che ho imparato a guidare in quegli anni abbondantemente e appunto mettiamo una musica che sia sicuramente non presente, cioè vuol dire c'era E quindi Ludelfin con l'Ase d'Alegre. L'Ase d'Alegre, per i testamenti, esatto, per cui... E allora andavamo... E il braccio? Era così. Per individuare la prima frequenza di trasmissione avevamo fatto un giro a 91,2 in valle, ci risultava libero. Poi invece non era così. Di cose divertenti, io ricordo per esempio, più che divertenti, con piacere, nei primi anni la radio appunto si sentiva con un raggio non particolarmente ampio, ma secondo di come è il clima, la giornata, eccetera, la nebbia per esempio svolge una funzione di distribuzione del segnale. Per cui una sera partita di hockey a Torre Pellice, Radio Cronaca, Valpe che perde 3 a 1 alla fine del primo tempo, un giocatore che era anche allenatore di una squadra giovanile nazionale, rientrava da uno stage in Trentino, arriva al casello di Villanova d'Asti, quindi decisamente fuori da quello che era all'epoca l'area di ascolto. Miracolosamente sente Radio Vecchi e sente che la squadra perde 3 a 1, accelera in modo improponibile, arriva in tempo qua per giocare il terzo periodo, segnare un gol e pareggiare poi alla fine della partita. Questa è una roba messianica, ma comunque successo e anche lì appunto era una serata di nebbia pazzesca, segnare arrivato fino alla partita di Asti, cosa che ripeto all'epoca non era assolutamente... Sì, era stranissimo, infatti ce l'avevamo chiesti come mai. Mi sono fortunata. Grazie. 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 Grazie.